La polizia di Stato ha sequestrato nelle campagne di Gonnesa una piantagione di marijuana e 40 sacchi di infiorescenze per un totale di 120 kg di droga. Nel blitz della prima sezione della squadra mobile di Cagliari è stato arrestato anche il presunto custode della piantagione, un uomo di 58 anni, indagato per coltivazione di sostanze stupefacenti. Le piante erano pronte per essere raccolte e in parte erano già sistemate ad essiccare all'interno di un capannone. Sul mercato illegale il valore della droga sequestrata è di circa 600 mila euro. L'arrestato è stato portato nel carcere di Uta in attesa dell'udienza di convalida.